Emanuele Ruvio, bentornato a Gela, anzi, tu da Gela non ti sei mai mosso? Ma diciamo ci sono nato, è la mia città, quindi uno che nasce in un posto non si muove mai, in un modo e in un altro sempre ci ritorna, insomma. E come è nata l'idea di coinvolgerti in questo progetto in merito al Festival del Golfo? Ma questo è stato, diciamo, Gaetano Lorefici e Daniela Venosta che mi hanno, diciamo, solleticato in questo senso, siccome a me lo spettacolo in genere piace, io facevo il musicista, suonavo con i topolini, insomma abbiamo avuto le esperienze in Radio Gela, eccetera, quindi diciamo lo spettacolo è l'altra anima della mia personalità, oltre al lavoro che ho fatto sempre per 40 anni come dirigente farmaceutico di un'importante multinazionale, però lo spettacolo non l'ho mai abbandonato e nemmeno Gela. È un appuntamento oramai consolidato, il Festival del Golfo, cosa possiamo anticipare in merito a quello che accadrà domani? Beh, diciamo che l'anticipazione che posso fare è che il Festival della Musica, ci saranno tante belle canzoni e soprattutto la cosa che mi ha appassionato, la bellezza delle voci dei ragazzi che parteciperanno alla decima edizione del Festival del Golfo che veramente non sono secondi a nessuno. E domani avrai una compagna? Avrai una bellissima compagna, Consuelo Alishantra, che abbiamo avuto modo di provare, insomma, che veramente non c'era migliore scelta per una compagna che ci potevamo affiancare l'un l'altro. Ma cosa ti dicevano prima che tu tornassi a Gela dal Festival del Golfo? Ma io l'ho visto, casualmente ho partecipato, sono stato anche invitato da Daniela, e l'anno scorso ho anche assegnato un premio, io ho un'attività a Cosenza e un partner anche a Gela, il Castor One, e mi è piaciuta particolarmente una canzone di un ragazzo, ho espresso il piacere di volerlo premiare con un iPad, e Daniela questo me l'ha permesso. E quindi la ringrazio, e da lì è nata un po' l'appeal, la voglia di esserci. E per domani possiamo anticipare qualcosa? Beh, ci sarà una grande orchestra. Ricordiamo l'appuntamento, ore 22. Ore 22, mercoledì 7 settembre, la vigilia della Madonna dell'Alemanna. Possiamo dire in bocca al lupo, va bene? Ma in bocca al lupo, salviamo il lupo, salviamolo il lupo, salviamo i cani, salviamo gli animali, salviamo i lupi, insomma.